Salve amici, oggi in compagnia di WeBill Lab della Zhiyun, una macchina che ho avuto modo di provare ultimamente, insomma in maniera ripetuta durante le mie attività lavorative e che ho deciso di portare alla vostra attenzione proprio con questo video in cui vi vado molto velocemente a raccontare quelle che sono le caratteristiche principali e le convenienze nel possederlo, quindi quali sono i vantaggi nel avere un oggetto del genere nel proprio lavoro quotidiano. Ritengo praticamente il WeBill uno strumento ideale per i videomaker che hanno necessità di muoversi molto velocemente, agevolmente e con una macchina a cui non manca nulla, subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, ecco come vedete in questo momento il WeBill è in funzione, stabilizza la nostra camera che in questo caso è rappresentata da una GH5 e partiamo proprio da qui, a chi adatto questo tipo di accessori, a chi adatto questo gimbal, sicuramente se da una parte è versatile, veloce, piccolino e adesso vi farò vedere quanto è veramente utile da questo punto di vista, dall'altra chiaramente mostra e offre caratteristiche adatte ad alcuni tipi di macchine. Quali sono le macchine necessariamente da utilizzare in questi casistiche, quindi con questo tipo di gimbal, macchine chiaramente piccoline che hanno un design ed un peso non eccessivo, proprio perché chiaramente questo tipo di accessorio nasce per dalle compatte fino ad un massimo di una mirrorless, diciamo con tra le altre cose degli obiettivi non troppo pronunciati. Dalla casa è dichiarato per un peso che tiene, i motori tengono serenamente un peso fino ai 3 kg, ma come ogni buon videomaker sa, diciamo di norma se il limite è 3 kg dovremmo cercare di stare sempre sul massimo i 2 kg e mezzo di peso e a far da padrone non è solamente il peso, ma molto importante è anche la grandezza della macchina che inserite all'interno dell'alloggio della slitta. Perché? Perché i motori chiaramente hanno una vicinanza dal mezzo che possono in qualche modo venire urtati nel momento in cui praticamente si fa questo tipo di gesto e quindi se la macchina ha un'ottima troppo pronunciata davanti, chiaramente siamo costretti a spostarla per bilanciarla correttamente nella parte posteriore andando poi chiaramente a ostacolare il motore e quindi a creare un disservizio o comunque un malfunzionamento. Quindi questa nota che ho fatto è molto molto importante nel momento in cui si sceglie il gimbal della tua vita perché chiaramente ripeto comprare un gimbal che poi non è compatibile con quelle che sono le ottiche che decidiamo di montare sul gimbal stesso compromette l'acquisto proprio che abbiamo fatto e addirittura potrebbe essere stato l'acquisto sbagliato. Cosa che non è assolutamente così se compriamo il giusto gimbal con la giusta attrezzatura, la giusta macchina da inserire sopra. Per la precisione quindi parliamo di un oggetto che nasce appunto per camere diciamo fino a una certa grandezza e per ottica fino a una certa grandezza e che sia veramente smart e veloce. Questa è la caratteristica che più di tutti mi sento di elogiare di questo gimbal nello specifico. Perché vi dico questo? Perché adesso lo vedete montato nell'interezza ma se lo andiamo a smontare in particolare togliamo praticamente la base già vedete quanto si è ridotta la grandezza quanto sia piccola. Tra le altre cose questa può essere alloggiata anche qui sopra con un semplice avvitamento in questo modo e il gimbal può essere tenuto in questa maniera quindi per poter fare degli inseguimenti ok dal basso e molto molto veloce l'operazione da fare e sicuramente un elogio in tal senso. Ecco oltre a questo altra caratteristica e metodo di funzionamento che mi sento di portare alla vostra attenzione è chiaramente il follow focus e come vedete è molto piccolino hanno studiato una manopola molto molto veloce molto piccola ma che fa il suo dovere così come il motore di follow focus che ho adagiato e sistemato qui quindi come vedete funziona perfettamente è abbastanza fluido nella lavorazione ci consente di mettere a fuoco direttamente attraverso la ghiera attraverso la manopola di controllo. Siamo abituati a vedere questo tipo di caratteristica su altri gimbal ma ricordo che si tratta di un gimbal veramente piccolino che ha tutto quello che hanno i fratelli maggiori quindi i gimbal più grandi. Adesso vi porto a vedere un po' come funziona in generale il gimbal una volta calibrato e la calibrazione come su tutti i gimbal si fa sui tre assi che sono la calibrazione di questo asse qui quindi il movimento destra sinistra della base piuttosto che avanti dietro con quest'altro diciamo perno che si stringe e fa il posizionamento in questo senso e per ultimo chiaramente la calibrazione dell'asse invece in verticale che è questa qui che vedete qui sul lato che vi sto indicando. Una volta calibrato basterà accenderlo con il tasto che sta qui sul laterale sinistro e il gimbal è pronto all'utilizzo. Con un attimo potrete vedere la sua efficacia e molto velocemente siamo operativi. Nota per quanto riguarda la sua costruzione abbiamo una piastra in standard manfrotto che può essere sganciata senza necessariamente dover perdere la posizione di bilanciamento quindi l'aggancio diciamo che qui abbiamo lateralmente ci consente di bloccare la piastra e nel momento in cui la sganciamo possiamo schiacciare questo tasto frontale qui e in questo modo possiamo staccare la macchina ma pur mantenendo la posizione in cui era posizionata la macchina e quando ad esempio facciamo questa operazione per cambiare una batteria rinseriamo la macchina e il gimbal è già perfettamente bilanciato. Chiaramente il follow focus è attaccato alla basetta che viene sganciata quindi nel momento in cui stacchiamo la macchina in realtà stacchiamo tutto compreso il follow focus e questo ci aiuta a non dover riattaccare e rifare la calibrazione del follow focus stesso. Per quanto riguarda il design che hanno studiato in casa Zhiyun abbiamo una discreta distanza dalla macchina almeno da una macchina di questo genere un motore che scopre completamente il display che anche se qui in questo caso la GH5 avremmo la possibilità di aprire il display però anche una macchina che ha il display come in questo caso diciamo frontale possiamo tranquillamente vederlo perché il motore è ribassato. Tutto il sistema è gestito e bloccato autobloccato dai fermi che sono sui tre assi uno è qui uno è qui e l'altro è qui eccolo qui che blocca quest'altro asse qui. Adesso lo vedete sbloccato ma ve lo faccio vedere anche bloccato. per quanto riguarda il vano a batterie eccolo qui abbiamo due sole batterie qui sotto che consentono di un'autonomia di fino a dieci ore di esercizio e quindi sicuramente elogiare ed questo tipo di caratteristica per un accessorio che comunque tiene un peso di 3 kg sempre il lato design quindi il lato costruttivo della macchina abbiamo questo ulteriore accessorio che viene fornito e che possiamo inserire all'interno della struttura in questo modo andando agganciare qui sul laterale e che cosa ci consente di fare sostanzialmente con questo accessorio noi possiamo alloggiare il telefonino ok in questo laterale ok e a che cosa ci serve il telefonino il web il permette una completa gestione della macchina nonché la visualizzazione del display quindi in tempo reale delle immagini presenti sul display della macchina in modo tale che possiamo tranquillamente vedere qui senza dover andare necessariamente a vedere il display e attraverso l'app dedicata della ma del del web il possiamo gestire tempi diaframmi esposizione e qualsiasi tipo di parametro appunto della macchina che montate per quanto riguarda le compatibilità con le varie macchine vi rimando chiaramente ai siti ufficiali che possono dare maggiori delucidazioni in tal senso ma ritengo sia veramente interessante l'applicazione e la modalità di esercizio di questo gimbal che consente tra le altre cose essendo un collegamento wifi di poter gestire da remoto il gimbal stesso attraverso l'app quindi possiamo ad esempio staccare praticamente il telefonino lasciare montato il gimbal su un crane piuttosto che su una gru un cavalletto eccetera e gestire la testa in modo remoto perfetto ora smonto nuovamente questo tipo di supporto e andiamo a vedere in che maniera praticamente il wbill lavora quale sono diciamo le modalità di lavoro che ci offre il wbill stesso come potete vedere al diciamo il suo manico è dotato di un display retroilluminato che consente di vedere direttamente la modalità di esercizio in cui ci troviamo ad esempio in questo momento siamo in pan follow ovvero la possibilità di seguire il pan come vedete no destra sinistra mentre invece il tilt è bloccato quindi vedete che la macchina mantiene l'orizzonte ok cambiare modalità è semplicissimo il wbill ha pensato una soluzione un po tutti i prodotti zion sono così davanti chiaramente è presente un grilletto frontale con cui possiamo fare diverse operazioni sono in questa posizione e che faccio doppio clic la macchina si rimposta di default sull'asse orizzontale e verticalmente appunto in maniera corretta l'altra cosa che possiamo fare è tenere premuto il grilletto e a questo punto la macchina da pan follow passa in modalità f vedete qui abbiamo le f ecco questo che cosa significa che la macchina adesso segue tutti i movimenti vedete che se io abbasso la testa si abbassa se alzo la testa segue il movimento verso l'alto sinistra destra quindi comincerà a seguire un po tutti i movimenti del braccio tranne l'asse roll quindi l'asse sulla rotazione perché perché per abilitare quella abbiamo un tasto apposito che il tasto che abbiamo qui davanti pop cliccando questo tasto la macchina comincerà a ruotare anche sul lato sinistro destro quindi è completamente snodata e seguirà in maniera delicata e addolcita tutti i nostri movimenti di camera che questa modalità chiaramente è per modalità di ripresa un po più creative facendo doppio clic si ritorna in pan follow quindi il gimbal è pronto immediatamente a rilavorare nella modalità standard quindi zion possiamo dire che concepisce i suoi strumenti come un utilizzo normale in pan follow cioè con il tilt bloccato quindi con l'asse orizzontale bloccato che seguimento in seguimento solo del destra sinistra però ci dà la possibilità attraverso il gritto frontale di essere velocemente ok operativi verso almeno quelle che sono gli assi sopra sotto e un tasto centrale come vi ho fatto vedere può snodare completamente è chiaramente possibile bloccare anche il pan e quando è che si utilizza questa modalità quando ad esempio dobbiamo indietreggiare e seguire un soggetto che è di fronte a noi quindi sul laterale destro qui abbiamo a portata di pollice abbiamo la possibilità di tirare giù questo selettore e come vedete a questo punto io posso indietreggiare la macchina rimane puntata sempre a guardare il punto da dove sono ho lasciato da dove ho schiacciato appunto il selettore questa modalità si rende veramente utile e molto veloce da attivare attraverso questo selettore che posso chiaramente sbloccare nel momento in cui voglio attraverso il selettore ritirando su il selettore stesso come vedete i comandi sono tutti a portata di mano e molto veloce da gestire tutto è chiaramente presente un joystick che potete vedere qui a portata di pollice che per consente di fare movimenti di camera altra peculiarità e interessante molto è il fatto che io amo i gimbal che hanno queste possibilità la possibilità di leggere sul display e andare nel display stesso a gestire i motori piuttosto che alcune impostazioni eccetera eccetera e qui tra le varie impostazioni per esempio abbiamo motori e la resistenza dei motori stessi funzione che reputo interessantissimo di gestione sui gimbal proprio perché comunque io velocemente devo cambiare questo settaggio secondo della lavorazione che sto facendo quindi un display secondo me ci sta sempre bene su un gimbal è una delle cose che amo dei gimbal e quando non lo trovo per me è un motivo di decisione negativa quindi di non acquisto del sistema stesso chiaramente abbiamo la possibilità di gestire in remoto tutta la macchina collegando chiaramente la stessa al gimbal stesso quindi la possibilità di entrare nel rack la possibilità di gestire le esposizioni i tempi e quant'altro ho tralasciato un ulteriore tasto che è questo qui davanti che è il tasto di go si chiama go e permette di fare movimenti a schiaffo cioè io lo tengo premuto e automaticamente la macchina è molto più reattiva molto più dinamica quindi tende a essere più bloccata anche esso è sul lato sinistro e anche esso raggiungibile con un semplice tocco ultime due funzionalità rappresentate sempre dal tasto bob che premuto due volte consentono ad andare nella modalità vortex che così potete vedere e attraverso poi il joystick qui davanti potete comandare serenamente vedete ritorniamo in operazione normale e ultima possibilità che abbiamo attraverso il tasto bob che in questo caso l'hanno abilitato e pensato per tre funzionalità che ripeto uno è la possibilità di sbloccare anche il bilanciamento sui laterali e quindi la rotazione in questo caso è bloccata un clic solo sblocca la rotazione sui lati destra e sinistra poi abbiamo due clic per la modalità vortex e tre clic un due tre e il gimbal passa in modalità selfie mode chiaramente per ritornare nella modalità normale 1 2 3 e la macchina ritorna in modalità normale quindi abbiamo un po' descritto tutte quelle che sono le caratteristiche di base per come è stato pensato e si può gestire la macchina stessa ma vi posso garantire che la stessa macchina è veramente oltre che leggerissima è veramente comoda da portare in giro io mi sento di consigliare se vogliamo questa macchina che ho avuto modo di provare su qualche mio lavoro e che reputo essere interessante proprio per la comodità di trasporto spesso viaggio in aereo spesso viaggio in treno e ogni volta portare un ulteriore borsa esclusivamente per un accessorio del genere chiaramente può diventare complesso questo gimbal può essere custodito e riposto all'interno di uno zaino che già contiene altri tipi di attrezzature quali ottiche e macchine fotografiche e questo ritengo sia la cosa più utile di questo gimbal oltre al fatto che lavora assolutamente egregiamente stabilizza la perfezione e nostre immagini a tal proposito vi lascio qualche immagine di miei lavori realizzati appunto con questo accessorio vi ringrazio per l'ascolto per il tempo che mi avete dedicato se avete delle domande potete lasciare al di sotto dei commenti del video stesso se vi è piaciuto il video un like non fa mai male e ci vediamo alla prossima